Ciao a tutti, sono Ivano, originario di Ariano Irpino, vivo dal 1988 in Veneto a Conegliano. Tramite Sport Channel volevo fare in questo momento difficile un saluto a tutti gli irpini nel mondo, in particolare a quelli che vivono giù, ai miei concittadini di Ariano che stanno vivendo un difficile momento. Ma sono certo che con la forza che ci contraddistingue ne usciranno fuori, lottando, come sappiamo fare noi irpini. D'altronde la storia ci insegna che dalle cicatrici e dai dolori ne siamo usciti più forti. Anche io sono qui a casa che osservo le regole e rispetto come da indicazioni, perché la libertà è anche rispettare le regole, rispettare quello che ci viene detto. È difficile ma ne usciremo fuori, perché proprio la libertà è una cosa che diamo per scontato ma ci manca tanto, così come gli abbracci, l'affetto tra le persone, tra i familiari. E per me, come tanti amici del Nord, è molto importante poter riprenderci quella vita che ci permetteva la domenica di seguire il nostro amato Avellino, incontrare gli amici della Svizzera, della Lombardia, di Avellino, di Ariano, e trovarci per festeggiare sulla curva, sui gradoni, abbracciarci per un gol del nostro amato Avellino. Io vi saluto tutti, vi abbraccio virtualmente, ce la faremo, ne usciremo più forti anche se con delle cicatrici, ma apprezzeremo di più la libertà e l'amore. Forza Avellino, forza Irpinia, forza Ariano, forza Italia!